Chi vuoi? Uomini e donne, Gemma e Giorgio, la confessione a luci rosse Uomini e donne Gossip News, Gemma e Giorgio, arriva la svolta clamorosa. Cancelletto Gemma Dalgani continua a non volersi arrendere. La dama torinese di Uomini e donne Over, video, proprio non ne vuole sapere di mettersi lanimo in pace e di dimenticarsi definitivamente della cocente delusione che le è stata inflitta dal suo ormai ex cavaliere Giorgio Manetti, che da diversi mesi non sa più come dirle e che ormai tra di loro è finita. A nulla è servita la confessione di Gemma che in queste ultime puntate del dating show di Maria De Filippi ha avuto il coraggio di ribadire a Giorgi il sentimento che prova nei suoi confronti, arrivando a dire di voler riprendere in mano le redini della loro storia d'amore che ormai tutti consideravano archiviata. Brutta notizia per Gemma, la confessione di Giorgio. Giorgio, però, non è stato per niente convinto di questa idea proposta da Gemma Galgani e ha preferito andare avanti per la sua strada, lasciandosi andare anche a delle confessioni piuttosto piccate nei confronti della sua ex fidanzata. Le ultime di gossip che arrivano dalle registrazioni di Cancelletto Uomini e Donne Over di questi giorni rivelano che Giorgio ha confessato ad Anna di essere stufo di Gemma e del fatto che nelle varie interviste che li chiedono i giornalisti per commentare la sua avventura nel dating show di Canale 5, si finisce a parlare sempre e solo della sua relazione con Gemma Galgani. . Video. Nel momento in cui Anna si è lasciata andare a questa confessione a Uomini e Donne vedremo che Giorgio Manetti confermerà tutto e in questo modo finirà per umiliare ancora una volta Gemma, che invece al contrario continua a credere in questa storia d'amore e sperava con tutta se stessa di poter ricominciare di nuovo da zero. . Eppure Gemma invece di prendersela con Giorgio, che ha rivelato di essere stufo di lei e delle sue attrenzioni, se la prenderà con la dama Anna, arrivando a dire che in fondo è solo gelosa di lei e di quello che c'è stato con Giorgio in passato. . Giorgio ha luci rosse a Uomini e Donne. Ma il colpo di scena arriverà nel momento in cui Giorgio confermerà il suo interesse nei confronti di Maria Gabriella, la nuova dama del trono over che sta conoscendo, con la quale sembra esserci una perfetta alchimia. Giorgio, infatti, non si farà problemi a dire che Maria Gabriella è una donna che lo eccita molto dal punto di vista sessuale, anche se ribadisce per il momento i due si sono promessi di conoscersi non da quel punto di vista ma entrambi hanno confermato che c'è una fortissima attrazione fisica che potrebbe portarli al più presto a letto insieme. .